Signori, ritorno al futuro 3. Terza e ultima parte, voto 8 da vedere per chiudere la trilogia, molto bello, molto carino e che dire, speriamo che non facciano il quarto perché ne parlavano, furono fare il reboot, so che si sono arrabbiati di brutto e hanno detto di no però...